L'essere meridionale, io ho fatto i miei manifesti, orgogliosamente terrona, mi piace essere terrona, mi piace avere nel mio DNA quella civiltà contadina che ci viene dal mezzogiorno d'Italia, che aveva un tempo la civiltà contadina, ma che viene dagli Apigi, dai Messapi, dai Normanni, da tutta quanta l'esperienza barocca, abbiamo insieme non soltanto la civiltà contadina, ma abbiamo anche tutta quanta una civiltà che possiamo veramente raccontare, non all'Italia, ma al mondo intero. Allora riappropriamoci delle nostre radici, della nostra identità e in questo momento in cui viviamo in un'Italia che sta rischiando di dividersi soltanto in termini amministrativi, federalismo fiscale attualmente farà soltanto quello, farà delle divisioni sempre più forti di carattere economico e quindi sociale fra le diverse regioni. In questo momento riappropriamoci invece della nostra capacità propositiva che abbiamo esportato in altre regioni d'Italia e cerchiamo di fare in modo di mantenerla qui per cercare di sviluppare questo territorio. Per quale motivo dobbiamo andare in Lombardia per contribuire alla produttività della Lombardia e non possiamo cercare di farlo qui? Sembra quasi retorica questo, ma è una formula molto semplice, avendone le opportunità, perché non le dobbiamo sfruttare sul nostro territorio. Allora io volevo partire da questo, voglio partire da questo, per fare diventare un po' tutti quanti noi consapevoli delle potenzialità che noi abbiamo per far crescere la nostra Puglia e per connotarla come un territorio positivo e propositivo. Cose del genere, però io le ho già sentite qualche anno fa, per esempio, da siciliano Lombardo, che creò il Movimento per l'Autonomia. Lombardo, infatti, in Sicilia è riuscito ad affermare questa sua proposta, solo che lui è partito dal Movimento per le Autonomie e quindi anche da una posizione un po' diversa, anche perché lui parte dalla Sicilia, la Sicilia è una regione a statuto speciale, lui prevedeva semmai una serie di regioni a statuto speciale tutti quanti, così come io ho pensato per un certo momento della mia riflessione sul tipo di organizzazione territoriale anche delle regioni. Oggi abbiamo una legge con la quale ci dobbiamo confrontare perché è quella la realtà, il federalismo e quindi il federalismo fiscale. Allora senza pensare a regioni più a statuto speciale, pensiamo che le regioni a statuto ordinario ci sono e che dobbiamo partire da quelle collocandoci nella realtà nella quale viviamo. Una rivista molto importante, una sorta di… Comunque con Lombardo noi siamo presenti insieme in questa campagna elettorale. Una rivista molto importante, una sorta di think tank per il mezzogiorno, infatti si chiama il mezzogiorno, ho letto alcune cose che te le passo e vorrei un tuo commento. L'Italia perderà la sfida della globalizzazione se il nord resta connesso all'Europa mentre il meridione arranca. Mi sembra una cosa normale, una riflessione normale potrei dire, non voglio dire banale, ma assolutamente normale. All'altra parte quando hai ricordato nel mio curriculum che ho fatto anche da responsabile del mezzogiorno, l'ho fatta perché io appartenevo ad un partito che credeva nella questione meridionale come questione nazionale. Tutti sappiamo che se c'è una parte di un territorio nazionale che arranca, beh, influisce negativamente su tutto quanto il territorio. Oggi che cosa rischiamo? Rischiamo che ci sia, come voleva Miglio a suo tempo, una macro regione del nord che è certamente mitte l'europea e quindi appartiene ad una parte... Agganciata all'Europa. Molto più agganciata all'Europa ed una parte invece dell'Italia, quella del sud, che qualcuno vorrebbe lasciare abbandonata un po' a se stessa e che invece può rappresentare la punta dell'Italia complessivamente... Ma anche del Mediterraneo. L'interno del Mediterraneo, l'area del Mediterraneo non deve essere assolutamente trascurata, non solo per i fatti commerciali, ma anche per i fatti culturali. Non è solo un'area di libero scambio di merci, ma è un'area di libero scambio di persone, le persone che possono anche fare commercio, ma che sono persone con le loro diversità, con le loro culture, non retoricamente, ma perché ci credo fino in fondo, come un'area di costruzione di pace, di serenità e noi sappiamo che così non è ancora nell'area del Mediterraneo. Quindi possiamo avere un grande compito che prima ancora che essere un compito di carattere commerciale è un compito di carattere culturale. Quindi è l'intera Italia che deve investire nel mezzogiorno e siamo stufi di sentirci dire che ogni volta non sapete usare i fondi. Purtroppo poi c'è qualcuno che quest'alibi lo dà anche al governo. Riferisce ai fondi FAS per esempio? Sì, perché poi i fondi FAS sono quei fondi che vanno aggiunti ad altri fondi. È l'impegno dell'Italia nei riguardi dell'Europa. L'Europa se l'è posto il problema. Detto noi abbiamo, in Italia come altrove, delle regioni che sono regioni sotto utilizzate. Quindi noi dobbiamo fare in modo che quelle regioni si mettano al passo con le altre regioni del loro territorio nazionale. Investiamo del danaro. Noi investiamo 70, l'Italia quanto investe? 30. Perfetto. Allora, i fondi per le aree sotto utilizzate dell'Italia debbano essere sommati in termini aggiuntivi ai fondi dell'Europa. Solo con questa sinergia si mette in modo un meccanismo. E invece questi fondi sono andati al nord? Sì, perché qualcuno qui non ha saputo fare i progetti per tempo. Se ancora stiamo aspettando adesso i bandi, adesso non è polemica la campagna elettorale, capita la campagna elettorale e quindi lo diciamo adesso, ma è un dato purtroppo drammaticamente reale. Insomma, la programmazione 2007-2013 non è che non la conoscevamo, ma lo sapevamo dal 2005 che ci sarebbe stata una programmazione comunitaria 2007-2013. Quindi nel 2007 dovevamo già essere pronti in Puglia, come nelle altre tre regioni del Mezzogiorno d'Italia, per fare una immediata programmazione, quindi dei bandi immediatamente. Ancora oggi stanno uscendo dei bandi. Da una ricerca Eurispe si viene fuori che il Mezzogiorno è sfiduciato. Partiti e i sindacati sono bocciati. Ma il sindacato devo dire che non ha fatto molti passi avanti e questo è un vecchio problema. Non soltanto perché, come i partiti d'altra parte, non hanno neanche rispettato il dettato costituzionale, insomma, lo sappiamo tutti, che la regolamentazione dei partiti come quella dei sindacati non c'è stata. Qui la Costituzione è assolutamente inapplicata. Ma al di là della Costituzione, quel che è peggio è che il sindacato è rimasto un po' arroccato ad una situazione che ormai politicamente non esiste più in Italia. Quando c'era il sistema proporzionale, il sindacato era legato all'uno o all'altro partito. Oggi i partiti hanno avuto la pretesa di creare il bipartitismo, anche se non ci sono riusciti e i sindacati sono rimasti un po' spiazzati. Oggi il sindacato dovrebbe accompagnare, soprattutto nel creare una nuova cultura del lavoro, invece mi pare che così ancora non sia. Forse qualche cosa di più in termini di cultura sindacale sul tema, per esempio, della partecipazione dei lavoratori anche alle responsabilità, non solo agli utili dell'azienda, ma alle responsabilità generali dell'impresa, credo che sia un tema fortemente affascinante che va assolutamente affrontato. O è di grande attualità oggi parlare, quando si parla della campagna elettorale, il discorso del nucleare. Io ho visto, mi è capitato di leggere un articolo da qualche parte, mi pare proprio sulla gazzetta del mezzogiorno, in cui Io Sud di Monopoli contestava a tutta questa passione sviluppata da vendola, tu sei d'accordo con il nucleare o no?